Maria Luisa De Niro, Centra, Presidente della APS Amici del Viale Foggia. Via Podgore e le altre vie limitrofe sono un mercato a cielo aperto. Voi avete incontrato di recente la Giunta Episcopo e avete rassegnato a loro anche alcune questioni, alcune soluzioni. In particolare per tutta la merce esposta c'è qualcosa che si può fare o i residenti devono rassegnarsi ad avere un mercato sotto casa? Salve. Pensare al termine rassegnazione non mi piace perché noi è da tanto tempo che comunque cerchiamo di difendere questa zona e lo facciamo tutti come volontari e con grande impegno. Noi non ci arrendiamo nel senso che io credo che sicuramente si può fare qualcosa. Ci vuole volontà politica, ci vuole un po' di interesse per questo posto e perché le soluzioni possono essere tantissime. Se noi pensiamo a De Luca che ha trasformato la città di Salerno, tutto sommato, credo che fosse il 2008 quando ha inaugurato il mercatino etnico, nel nostro caso sarebbe multietnico perché qui ci sono parecchie etnie, potrebbe essere una soluzione. Se al Comune si decidesse di destinare a queste persone un'area mercatale, allora noi avremmo due risultati. Uno, garantiamo ai residenti con problematiche, e qui ce ne sono, perché questo è un quartiere che sta diventando vecchio, quindi c'è gente in carrozzella, con le badanti, o mamme con bimbi, quindi passeggini, quant'altro. Pensate che ci sta un'intera strada tuttavia a Podgora con i marciapiedi impraticabili. Quindi sgombriamo i marciapiedi e garantiamo a queste persone una protezione e un controllo, in modo che si sa chi sono, da dove vengono, che merci hanno, e trasformiamo un'illegalità in una cosa legale. Non credo sia complicatissimo. Diventerebbe anche un valore aggiunto per la città, un mercato multiettrico, no? Non solo, ma diventa anche una vera forma di integrazione, perché tu a questa gente in qualche modo vai a prestare assistenza, li aiuti, metti degli ombrelloni, li tieni al coperto d'inverno, al coperto dal sole estivo, piuttosto che buttati su un marciapiede. Cioè è inutile parlare di integrazione e non muoversi. Bisogna fare qualcosa per integrare, anche per aiutarli, perché tra queste persone sicuramente c'è qualcosa che, qualcuno che non è proprio, però ci sono anche tanti poveretti. Perché non tendere una mano, scusate, non tendere una mano a queste persone? Avete anche individuato un'area vicina, c'è anche, adesso sta per essere consegnato lo slow park, per dire, quello vicino al nodo intermodale. Avete individuato un'area anche qui vicino che potrebbe avere le caratteristiche per un mercato? Ma sicuramente, c'è l'area intermodale, dove comunque di spazi ce ne sono. C'è anche, ci sono anche dei grandi spazi vicino alla prima, dove ci sono proprio... Eh, dove ci sono anche, c'è la presenza dei vigili urbani, quindi dove anche un controllo diventa più facile, visto che parliamo sempre di assenza di personale. Però se sono vicino a loro, voglio dire, c'è anche dei grandi spazi di aiuole, che potrebbero essere attrezzate, prima del cavalcavia intendo, no? Proprio per questo fatto. Perché insomma, cioè, parlare e parlare è inutile. Bisogna aiutare. Noi abbiamo una situazione grave qui, adesso si sono aggiunti tre poverissimi. Siccome noi, nel passare degli anni, tenga presente che noi dal 2016 che siamo in attività, ne abbiamo viste di cose, e abbiamo visto gente morire. Noi avevamo il famoso copertino, e poi come lui un altro, Ibra, siamo arrivati a vederli morire sotto questi portoni, perché non c'è stato intervento da parte dello Stato. Capisco che è difficile, io capisco tutto, però la buona volontà e la voglia di cambiare la città è anche in queste cose. Al momento ne abbiamo tre, che dormono sotto i portoni. Sono senza tetto, ma sicuramente c'è qualcuno con disturbi mentali, perché c'è un signore che vede gli alieni. Sta con 30 gradi, coperto, con coperte pesanti, completamente. Noi abitanti, al di là dell'associazione, prestiamo aiuto nel senso vestiti, scarpe, cibo. Lo stiamo facendo per tutti e tre. Andiamo a controllare se è vivo, perché sepolto da tante coperte, a volte è immobile. Quindi la cosa è stata sottoposta all'assessore amatore, che devo dire è venuto, è intervenuto, pronto, ambulanza, l'hanno fatto ricoverare, lui però non si risolta, ci sono stati. Però bisogna intervenire. Uno di questi dorme addirittura, le faccio vedere, dove c'è il box grande, davanti al box. Questo box ha due entrate, cioè se io sono chiamato di notte, qua ci sono medici, e entro dal lato di via Monfalcone, io prendo la macchina, faccio la rampa e lo trito sotto le ruote. Grazie.